Il Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina ieri sera, coordinato dai vertici locali del PD ed introdotto dal Vice Presidente del Consiglio Regionale delle Marche Renato Claudio Minardi, ha tenuto un incontro pubblico nella Sala Reunioni della Codma di Rosciano. Sala Gramita è affollata anche dai rappresentanti locali della categoria e da molti produttori ed agricoltori locali che non hanno mancato di far presente al Ministro, occasione più unica che rara, direttamente le proprie istanze come la semplificazione fiscale e burocratica per le proprie attività e la difesa delle tipicità ed eccellenze locali che a volte vengono stritolate dalla globalizzazione nonché aumentare la filiera corta a vantaggio dei produttori. Istanze alle quali il Ministro, pur nel limitato tempo a disposizione, ha risposto punto su punto elencando i risultati portati avanti dal suo dicastero proprio in questa direzione. È importante che il 4 di marzo si possa dare un segnale per continuare il lavoro importante che abbiamo fatto sull'agricoltura italiana, sull'agricoltura dei nostri territori. Credo che in questi anni abbiano dato dei segnali utili, in particolare perché sono entrati tanti giovani in agricoltura, abbiamo fatto un lavoro sulla tutela del reddito degli agricoltori che va continuato perché bisogna affrontare anche alcuni problemi nuovi e quindi massima serietà anche nel dire soprattutto del lavoro che dobbiamo ancora continuare. Abbiamo fatto delle grandi, secondo me, innovazioni a tutela del consumatore, del cittadino, in particolare con l'introduzione dell'origine in etichetta e della massima trasparenza quindi verso il consumatore. Abbiamo rimesso al centro dell'attenzione del paese l'agricoltura e l'agroalimentare e questo per me è importante e questo messaggio e questo lavoro va continuato dopo il 4 perché l'agricoltura ha bisogno di poter continuare questo sforzo. Presente all'incontro anche il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, ed i candidati del territorio alla prossima tornata elettorale, Camilla Fabri, Cristian Fanesi e Irene Manzi. Grazie.